Un nuovo protocollo sulla scuola che allontana ulteriormente le possibilità di didattica a distanza. Con il provvedimento viene infatti esclusa l'ipotesi di quarantena in una classe se i positivi sono meno di tre. Una decisione che soddisfa particolarmente l'assessore regionale di istruzione Giorgia Latini che in più di una circostanza aveva sostenuto questo provvedimento puntualizzando nelle sue affermazioni che la scuola si fa in classe e non dietro lo schermo di un computer. Il nuovo protocollo sulla scuola quindi finalmente quando c'è un caso, un solo caso positivo in una classe non si andrà in automatico in didattica a distanza. Questa battaglia l'abbiamo portata avanti anche noi come regione Marche, io come assessore perché secondo me è importante non penalizzare più i ragazzi dopo tanti mesi di didattica a distanza ma cercare di fare il possibile affinché ci sia il proseguimento della didattica in presenza. L'assessore Latini ribadisce che l'obiettivo principale resta quello di fermare la pandemia ma allo stesso tempo quella che viene definita la deprivazione culturale che ha investito gli studenti e i ragazzi in genere nell'ultimo anno e mezzo. Quindi con questo protocollo sarà possibile andare in didattica a distanza solo se ci saranno oltre tre casi nella stessa classe e quindi così tuteliamo il diritto all'istruzione perché i ragazzi già sono stati penalizzati troppo tempo e invece dobbiamo appunto cercare adesso di ritornare sempre di più alla normalità e di tutelare le nuove generazioni. Nel frattempo dal Ministero dell'Istruzione sono stati ammessi a finanziamento tutti i progetti presentati dalle scuole marchigiane per reti locali, cablate e wireless. L'obiettivo è consentire la connessione alla rete assicurando distribuzione interna dei dati alla massima velocità disponibile.